salve a tutti oggi voglio voglio aprire questo video con un argomento un argomento piuttosto particolare il fatto che si è tanto parlato e bersagliato una ragazza soltanto perché non bellissima e faceva la modella per gucci ora io dico una cosa non era bellissima ma la scelta una casa di moda questa ragazza per fare la modella perché voglio soffermarmi su questo perché oggi questa società è fatta solo ed esclusivamente di apparenze tutti siete così ognuno di voi guarda solo all'aspetto fisico se uno è bello è brutto allora io vi dico una cosa io mi sento brutto e sono orgoglioso di essere perché non sono come voi perché voi guardate l'apparenza guardate se quella è perfetta la perfezione ma ma va da sto specchio che ho detto in dialetto ognuno di voi prima si dovrebbe guardare allo specchio e capire se all'altezza di giudicare un'altra persona o bello brutta che sia poi voi che siete tutti così belli appariscenti che andate in giro tutti ben vestiti ma vi siete mai chiesti quanto siete intelligenti la vostra cultura dove arriva cosa conoscete cosa conoscete che cosa sapete voi della storia della geografia dei dei di un paese del vostro paese stesso cosa sapete la storia di dove abitate che intelligenza avete nel giudicare le persone ma ragazzi ma svegliate che svegliate che la vita non è social la vita non è solo apparenza divertitevi ma soprattutto non giudicate gli altri e cercatemi per bigliatevi bigliatevi che siete una massa di dormiglioni dormite gente che dorme che andate lì solo per farvi i selfie il sabato sera e poi magari neanche vi divertite neanche vi divertite ma ragazzi ma stiamo scherzando stiamo scherzando questa non è vita voi non fate una vita voi fate una vita di merda ve lo dico sinceramente il vostro divertimento è tanto per fare due video e metterli su instagram e fare la storia ma che storie sto nel frattempo voi state facendo la storia c'è gente che invece storia non ne fa e si diverte vi saluto buona serata a tutti